Nell'intervista televisiva alla Volta Buona, Yari Carrisi, il figlio di Albano e Romina Power, ha condiviso alcuni aneddoti sulla famosa coppia di artisti italiani, i suoi genitori. Yari Carrisi è nato nel 1973 ed è il secondo figlio della coppia. Quest'anno ha compiuto 50 anni. Ha una forte connessione con sua madre e ha scelto di adottare sia il cognome Carrisi che quello della madre. Entrambi condividono un percorso spirituale buddista e dalle sue attività sui social media è evidente che ha frequentato le tenute di Cellino San Marco, dove risiede, per lezioni di yoga e di avvicinamento al buddismo. Ha ereditato anche la passione per la musica dai suoi genitori e spesso pubblica video su Instagram in cui suona la chitarra. Yari Carrisi è autore di testi musicali ed ha scritto canzoni per suo padre, Albano, e anche per altri artisti, tra cui Giovanotti. Attualmente trascorre molti mesi all'anno in India, ma torna spesso nella sua amata Puglia, una regione a cui è molto legato. Durante l'intervista alla Volta Buona ha condiviso dettagli sulla sua vita e le sue passioni con Caterina Balivo. Yari Carrisi ha ricevuto un caloroso benvenuto da Caterina Balivo e ha rivelato di conoscere la conduttrice da molto tempo, in quanto era la fidanzata di un suo caro amico, Sebastian, quando Caterina aveva solo 17 anni. Durante l'intervista, ha anche raccontato di essersi tolto le scarpe insieme a Caterina per rispetto verso i piedi. Ha espresso il suo amore per il Salento, una regione in cui si sente molto a suo agio poiché può assaporare un mix di diverse culture. Inoltre, ha menzionato il suo amore per l'India, anche se ha notato un cambiamento significativo dovuto alla globalizzazione e all'uso di Internet, che ha reso l'India diversa rispetto ai suoi ricordi. Durante l'intervista, Yari ha anche menzionato sua sorella Ilenia e ha detto «Lei è sempre in giro. Noi non abbiamo mai avuto conferma». Ha condiviso il fatto di aver iniziato a suonare con suo padre subito dopo la separazione dei suoi genitori e ha confessato di amare in particolare le canzoni degli anni 70 dei suoi genitori, ma di essere meno appassionato dei loro grandi successi degli anni 80.